L'iterra di approvazione del nuovo piano di zonizzazione acustica è in direttura d'arrivo in consiglio comunale, uno strumento che viaggia in parallelo con il nuovo piano strutturale comunale, il PSC, che ha rappresentato nelle ultime settimane motivo di allarme soprattutto tra commercianti ed esercenti. Possibili chiusure di strade per abbattere il livello di decibel e conseguente crollo degli affari rappresentano però scenari da escludersi in maniera categorica, almeno stando a quanto riferito dal direttore di ARPA Giuseppe Biasini. È invece un aiuto ai cittadini e anche a chi fa attività commerciali perché finalmente le cose saranno decisamente più chiare, soprattutto per chi avrà giustamente intenzione di svolgere attività all'aperto avrà un regolamento chiaro a cui riferirsi e quindi non saremo più nel limbo come prima dove le interpretazioni erano lasciate un po' al caso. La città sarà suddivisa in sei macro aree che in buona sostanza consentiranno controlli dei tecnici di ARPA al riparo da possibili ricorsi in assenza di normative al riguardo. Si fa un gran parlare di piani di zonizzazione acustica, sgombriamo il campo dagli equivoci. Prima di tutto Piacenza può essere definita una città molto rumorosa? Decisamente no, al pari di tutte le altre città dell'Emilia Romagna che soffrono nell'attraversamento di strade, infrastrutture di trasporto e quindi come tali delle emissioni che queste determino, ma non più di altre città. Chi vuole intraprendere attività di un certo tipo all'interno del centro urbano ha delle certezze maggiori e quindi può verificare già sui piani urbanistici che collegati ovviamente alla zonizzazione cosa si può o cosa non si può fare, ma nella sostanza non cambia assolutamente nulla rispetto a prima. Per finire con Biazzini si è parlato pure di qualità dell'aria. Per la prima volta dopo dieci anni sembra che Piacenza possa evitare di oltrepassare i 35 sforamenti annui del limite massimo di PM10 nell'aria consentito prima dello stop alle auto. È indubbio che le condizioni meteorologiche giocano un ruolo fondamentale sulla qualità dell'aria e quindi una giornata di vento certamente diluisce, certamente migliora la qualità dell'aria, una giornata di pioggia, lave. Certamente osserviamo un trend in miglioramento e non possiamo negare il fatto che anche molte azioni sono state messe in campo, a cominciare dall'efficienza dei motori. Le aziende sono state assolutamente molto controllate e hanno migliorato il loro livello emissivo.